Si chiama Elena Fuentes, è una ragazza di 23 anni di età che ha creato un video di La mente l'ha diventato virale su TikTok. Con grande disperazione infatti la ragazza manifesta apertamente che purtroppo è stata licenziata 12 volte da lavori diversi. La disperazione è più palese, è evidente nel suo volto e nel suo ingiudicato viso che non lascia di certo inaspettate le reazioni che hanno gli utenti. Infatti la donna avrebbe detto purtroppo utilizzano sempre le solite scuse, va bene? Rifiuti su rifiuti, difficoltà su difficoltà, amareggiarsi su amareggiarsi. Insomma Elena non le manda a dire che a soli 23 anni di età ha lavorato in 12 posti diversi, in tutti si è andata a licenziare con delle scuse. Ok? Cioè è stata licenziata con delle scuse, scuse banali per esempio, sei molto brava, ma non effettivamente sei buona, oppure il fatto che dal punto di vista, diciamo così, lavorativo è si produttiva ma non troppo. Insomma tante 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 reazioni, va bene? La donna ha voluto, diciamo così, rassicurare tutti, nessuno escluso, facendo sapere che purtroppo questa è la realtà e che bisogna farsi, diciamo così, un esame di coscienza. Qualcuno l'ha spronata, qualcun altro l'ha detto starci, qualcun altro ancora invece l'ha criticamente c'era criticata e anche forte in maniera aspra, va bene? Certo è che essere licenziato in 12 posti di lavoro diversi è un'esperienza che non vi auguro mai può mai di attuare di avere, va bene? Comunque io mi auguro che la povera Elena stia meglio ma manifesta apertamente il mio pensiero e la mia vicinanza a lei, Elena Fuentes, affinché trovi un po' di gioia in questa valle di lacrime che è la vita. Il video termina qua, questo video non vuole leggere le brevi di Elena Fuentes né di altre persone ma solo informare stoppoli. Lascio solo per questo motivo, non per altri motivi. Ciao a tutti, una buona giornata a voi e iscrivetevi al canale.